Articolo 83 della Costituzione Italiana Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Abbiamo letto l'articolo 83 della Costituzione Italiana, il primo articolo del secondo titolo della prima parte della Costituzione. Si tratta del primo di una serie di articoli dall'83 al 91 che riguardano il Presidente della Repubblica Italiana. In questo articolo diviso in tre comma si delineano le procedure di elezione del Presidente della Repubblica Italiana. Andiamo a commentare questo articolo e partiamo dal primo comma. Presidente della Repubblica eletto dal Parlamento. Soffermiamoci su questa affermazione che è molto importante perché fa della Repubblica Italiana una Repubblica parlamentare, cioè il centro del potere è nelle mani dei rappresentanti nostri del popolo italiano che siedono nel Parlamento. E cioè la Repubblica Italiana non è una Repubblica presidenziale, come per esempio quella francese, cioè il Presidente della Repubblica non è eletto dal popolo come fanno invece i francesi, ma il Presidente della Repubblica è eletto dai rappresentanti del popolo che siedono nel Parlamento, e cioè l'Italia è per questo una Repubblica parlamentare. Il Presidente è eletto dal Parlamento e il Parlamento si riunisce in seduta comune dei suoi membri. Ad ospitare questa seduta comune è di solito Montecitorio e che cosa indica questo passaggio importante del primo comma? e cioè la seduta comune dei suoi membri vuol dire che nella stessa aula parlamentare si riuniscono tanto i rappresentanti della Camera dei Deputati quanto i rappresentanti del Senato della Repubblica. A questi però si aggiungono i delegati regionali che sono appunto argomento del secondo comma. All'elezione partecipano appunto tre delegati per ogni regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. Soltanto la Val d'Aosta ha un solo delegato. Quindi oltre che dai deputati, oltre che dai senatori, il Presidente della Repubblica è eletto anche dai delegati regionali. Si tratta di un comma particolarmente interessante ma nello stesso tempo, facendo due calcoli, ci rendiamo conto che essendo 20 delle regioni italiane, tre delegati a regione all'esclusione della Val d'Aosta che presenta un solo delegato, di fatto noi arriviamo a 58 delegati che le regioni possono esprimere. Si tratta quindi di una rappresentanza abbastanza esigua se noi teniamo in considerazione che normalmente, prima della riforma del numero dei parlamentari, nel Parlamento, in seduta plenaria, a Camere congiunte, siedono poco meno di mille delegati rappresentanti. Quindi effettivamente agli oltre 900 tra deputati e senatori e i soli 58 in rappresentanza delle regioni ci rendiamo conto come appunto questa rappresentanza sia abbastanza esigua. E per giunta questi delegati non sono altro che l'espressione dei poteri politici delle singole regioni, quindi della maggioranza e dell'opposizione delle singole regioni, due delegati alla maggioranza, uno all'opposizione, per cui di fatto insomma non fanno altro che rapportarsi a quello che hanno deciso i partiti politici. Quindi il peso dei delegati regionali risulta essere ancora più simbolico. Ma perché questo secondo comma? Nelle intenzioni appunto dei padri costituzionalisti questo secondo comma voleva essere un giusto compromesso tra i sostenitori dell'elezione ad opera delle sole camere e cioè la Repubblica parlamentare di cui abbiamo detto nel primo comma e invece chi voleva l'elezione Presidente della Repubblica attraverso un voto popolare cioè la Repubblica presidenziale. E questa partecipazione del Parlamento e dei delegati regionali voleva essere un giusto compromesso. In effetti la scelta di integrare il Parlamento con i delegati regionali vuole sottolineare il fatto che il Presidente della Repubblica rappresenta non solo lo Stato centrale ma anche le comunità locali. Ecco, se letto con questa altra chiave di lettura possiamo dire che il secondo comma è un comma particolarmente importante. Andiamo a leggere il terzo comma di questo articolo. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea. Scrutinio segreto un passaggio importante ovviamente così come anche la scelta di un quorum molto alto cioè a maggioranza di due terzi dell'Assemblea parliamo cioè della maggioranza qualificata cioè un numero veramente elevato di voti. Da dove nasce questa scelta di una maggioranza così ampia? La scelta dello scrutinio segreto e di questa maggioranza molto elevata sono volte a dare ampia libertà all'elettore per quanto riguarda lo scrutinio segreto e a designare una figura ampiamente condivisa per quanto riguarda naturalmente la maggioranza qualificata i due terzi delle Camere riunite e dei delegati regionali. Per esempio possiamo citare Francesco Cossiga presidente eletto nel 1985 e Carlo Zeglio Ciampi eletto nel 1999 che furono due presidenti della Repubblica eletti alla prima votazione cioè con una sola votazione ma i padri costituzionisti vedevano il pericolo che una maggioranza così ampia fosse difficile sempre da raggiungere e quindi ecco l'ultimo passaggio del terzo comma dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta cioè la metà più uno. Quindi i padri costituzionisti hanno previsto nella parte finale di questo articolo 83 anche la possibilità di abbassare il quorum necessario per elezione del presidente della Repubblica e in tal senso ricordiamo per esempio che il presidente Giorgio Napoletano fu eletto al quarto scrutinio del 2006 addirittura al sesto quando fu rieletto per una questione che poi approfondiremo nel commento di un altro articolo nel 2013 il presidente Mattarella nel 2015 fu eletto al quarto scrutinio quindi anche lui con maggioranza assoluta ricordiamo altri due casi estremi naturalmente il presidente Saragat siamo nel 1964 fu eletto addirittura dopo 21 votazioni e Leone invece nel 1971 divenne presidente della Repubblica italiana soltanto alla ventitresima votazione divenne la la l'uomo divenne la l'uomo divenne Grazie.